e il quinto giorno il mio caro amore mi regalò buongiorno cari amiche e bentornate sul mio canale youtube oggi per il quinto giorno dei 12 giorni di natale voglio proporvi un progetto un po più articolato andremo infatti a realizzare un centrotavola un centrotavola molto carino che potete utilizzare per il periodo di natale ma credo con piccoli accorgimenti anche dopo di che cosa abbiamo bisogno partiamo dal basso abbiamo bisogno di uno di quei supporti per torte ok quello che ho preso io misura 23 centimetri vedete che l'ho usato da questo lato ho messo la parte dorata e da questo lato messo ma non vuol dire niente perché tanto verrà tutto cucito però per dire se volete nasconderlo bene 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 e non volete neanche cucirlo farlo c'è il lato nero che così copre tutto poi ho tagliato la stoffa ho scelto questo feltro glitterato e ho tagliato in questo feltro un cerchio proprio della stessa misura un pochino più piccolo dei 23 centimetri quindi diciamo 20 21 centimetri e uno invece più grande per cui se quello era 23 centimetri ne ho tagliato uno di più o meno 30 centimetri di diametro l'ho messo sul sotto il cerchietto sono andata a fare una filza tutto intorno e lo stretto poi ho appoggiato il secondo disco che più piccolo e lo sto cucendo con un punto festone tutto intorno per poterlo rinchiudere bene ok perché sarà la base del nostro centro tavola quindi il primo step che faccio adesso e cucire col punto festone tutto intorno al mio cerchio ok faccio questo lavoro e ci vediamo subito ecco qui l'ho fatto l'ho cucito e l'ho risvolto perché questo è il lato dritto ok e questo il primo step adesso ho acquistato una scatola di cartone nero io l'ho fatta nero perché mi piaceva farle nero è chiaro che adesso in giro ci sono in tutti i negozi trovate le scatole per le confezioni natalizie ci sono anche rossi tra l'altro li comprate al prezzo che volete insomma io l'ho fatto nero ecco qua adesso andrò ad incollarlo giusto al centro la base della mia scatola andrò ad incollarla giusto al centro del mio cerchio ok verrà chiaramente come state vedendo un cappello dentro ho messo un po di imbottitura che servirà a rappresentare un po la neve perché il tema del nostro centro tavola saranno proprio i pupazzi di neve ok quindi il coperchio lo teniamo perché l'idea è che se voi togliete tutto da qui dentro ci mettete solo un po di carta di riso potete utilizzarlo per metterci dentro i biscotti da servire a natale è molto bello i cioccolatini o quello che volete ok eccolo qua è proprio bello allora prendo la mia colla a caldo la metto giusto al centro della base della mia scatola e vado a posizionarmi ecco qua al centro la scatola al centro del mio cerchio poi come vedete con i nastri quelli che abbiamo usato tanto quelli con l'anima ho fatto dei fiocchi ma proprio dei focchi semplicissimi faccio presto a dirvi questo perché poi passiamo a quello che dobbiamo cucire dei fiocchi semplicissimi l'ho incollato una fascia tutta intorno poi ci ho messo un po di fiocchi davanti qualche pezzetto di botanica qualche rametto di botanica ed ecco qua il nostro cappello è pronto adesso mentre questo si asciuga noi cosa facciamo prendiamo il nostro cartamodello il cartamodello ve lo farò trovare in foto sulla pagina facebook country mommy con questo cartamodello e del feltro bianco noi andiamo a ritagliare in doppio sul feltro bianco la sagoma del corpo del pupazzo di neve e della testa del pupazzo di neve lo andremo a tagliare e lo andremo a cucire con il punto festone e verrà fuori questo il corpo e questa è la testa non ho fatto altro che mettere la cartamodello sul tessuto l'ho disegnato poi l'ho appoggiato con gli spilli lo tagliate direttamente in doppio e sono andata a cucire col punto festone bianco su bianco perché il pupazzo di neve volevo che rimanesse bianco ok poi ho fatto la stessa cosa con la testina a mano libera ho disegnato una carotina dal feltro arancione l'ho cucita con una piccola filza e poi con la penna nera sono andata a disegnarmi gli occhi le sopracciglia e la bocca e con il colore per tessuto sono andata a fare le guanciotte adesso cosa devo fare non devo fare altro che incollare la testa sul corpo gli metterò poi una bella sciarpina e il pupazzo di neve sarà pronto la sciarpina la faccio con un semplice nastro che un po sfrangiato così ok e adesso come prima cosa andrà incollando ad incollarmi proprio un puntino piccolino la mia il mio nastro così con un puntino così giusto per fermarmelo poi me lo fermerò anche da dietro così starà bello immobile poi ci posizionerò sopra la testina la incollerò e poi farò girare intorno al nastro per legarlo ok sembra una così in realtà è il corpo del pupazzo ecco qui adesso andiamo ad incollare questo facciamo scendere in avanti questo metto la colla qui e lo incollo eccolo qua lo tengo un po in modo che si incolli bene vi faccio vedere gli mettiamo anche un cappellino in testa adesso ho trovato un bottoncino a forma di cappellino che mi piace tanto vediamo se sta bene e gli mettiamo quello ok una volta che questo si sarà asciugato andremo a legare la sciarpina intorno aspettiamo qualche minuto e saremo pronti ecco qua allora la nostra colla ha preso si è incollata vi faccio vedere il cappellino di cui vi parlavo è un bottoncino glielo voglio mettere qui proprio in testa quindi vado a mettere un po di colla qui tra l'altro un bottoncino col piedino dietro quindi il piedino ci farà anche un po da base e dovrebbe rimanere fermo così se voi volete invece del cappellino potete metterci il cappello tipo quello di papà natale per esempio e anche lì un calzino lo prendete e gli fate da cappello poi due bottoni eccoli qua i due bottoni li andiamo sempre ad incollare quindi qui un po di colla e mettiamo il primo bottone e qui un po di colla e mettiamo il secondo bottone e il nostro pupazzo di neve sta prendendo vita vedete come diventa più carino adesso ci servono delle braccia io sono andata in giardino e con sprezzo del pericolo perché mio cane in questi giorni agitatissimo mi segue dappertutto e vuole fare quello che faccio io ho raccolto due rametti che andrò ad incollare a destra e a sinistra del corpo del mio pupazzo per fare le bracciotte così come si fa proprio con i pupazzi da neve veri ok quindi incollo anche qui uno incollo da questa parte eccolo qua bruciandone le dita chiaramente e un altro link potete anche fare il buchino infilarlo dentro io non voglio fare il buchino e quindi lo incollo così e l'altro l'incolla da quest'altro lato col buchino magari mi riesce più facile mi fate come vi sentite di fare che verrà comunque bene ecco fatto il nostro pupazetto ce l'abbiamo è carino vero è simpatico eccolo qui poi con il nostro cerchiometro tagliamo un cerchio di 9 cm ok e con il cerchio sul tessù sempre sul feltro in doppio realizziamo un'altra palla di neve e adesso questa ve la faccio vedere come gli dipingo il viso perché quella non ve l'ho fatta vedere così facciamo questo lavoro qua prendiamo il nostro pennarello e ci facciamo più o meno dove vogliamo tracciare dove decidiamo che ci piace che siano gli occhi facciamo prima due puntini per rappresentare gli occhi in questo modo qua e poi ce ne andiamo a colorare allargandoli piano piano ok ho dipinto anche questo viso l'ho fatto con la boccuccia un po più storta adesso ho tutto pronto e vado ad assemblare il mio cappellino ed ecco qui il nostro centro tavola natalizio è terminato allora ho assemblato tutto vedete la nostra faccina che se voi ci mettete dietro del nastrino può essere anche appesa sull'albero di natale quindi diventare una pallina per dell'albero di natale ho messo poi una scritta snow cases delle palle di neve ed il nostro centro tavola è davvero pronto per essere sfoggiato sulla nostra tavola di natale potete toglierci utilizzare diversamente il pupazzo di neve le palline eccetera eccetera ed utilizzarlo come semplice contenitore voglio ricordarvi come sempre il mio libro buon natale mrs claus che è un regalo perfetto per i vostri bambini per natale ok allora con il nostro quinto addobbo dei 12 giorni di natale abbiamo terminato ci vediamo prestissimo tanti like e tante condivisioni ciao amiche